Sono stata dal parrucchiere, ho aspettato tre ore di turno e dopo aver fatto trattamenti i capelli, manicure, pedicure e questo bellissimo taglio trend in cui si è sbizzarito il mio favoloso parrucchiere, Angelo, sono in macchina da tre minuti e tu ancora non metto nienta. Ma sei parlato solo tu? Io manco me ne ho accorto che ero andato dal parrucchiere. Cioè no, va, no, no, graziosi. Graziosi? Dopo tre ore di aspettare di turno, vicino, sono graziosi. No, infatti ho detto no, graziosi, capito? No, graziosi. Carini. Carini? Carini, carini, carini. Come? Dopo che ho fatto trattamenti i capelli, manicure, pedicure e questo bellissimo taglio trend in cui si è sbizzarito il mio favoloso parrucchiere, Angelo, vicino, sono carini. No, infatti sono belli. Belli, belli. Belli? Belli come? Ah, vuoi finire di frenare. Ma mi vuoi molta? Ma magari. Dopo che ho speso 300 euro, vicino, sono belli. Signora, onestamente, dopo che ho speso 300 euro, come faccio a dire, fanno schifo questi capelli. Amore, guarda, questi capelli sono bellissimi, sono eccezionali, ti dirò di più che Angelo in questo taglio trend si è superato. Ma che dico, si è doppiato. E questa sera con le tue amiche sarà un successo, vedrai che figura, vedrai che figura, vedrai che figura di merda che faremo.